La Virtus Francavilla vince di misura quanto basta per conquistare tre punti e volare al terzo posto in classifica contro un Avellino che adesso viene mantenuto a distanza dai biancazzurri. Dopo neanche un minuto però è l'Avellino a rendersi subito pericoloso con una conclusione di Ciancio che però spara l'alto. Poco dopo ci riprovano gli ospiti con carriero ma questa volta è bravo Nobile ad alzare in corner. Partita molto fisica che fatica a sbloccarsi. Al ventottesimo ci riprova la Virtus Francavilla con una conclusione di Maiorino che termina in corner. Un match molto fisico e poco tecnico con le due squadre che fanno enorme fatica a penetrare in avanti. Nel finale la tensione si alza sempre di più quando l'Avellino riparte in contropiede ignorando l'infortunio di un calciatore biancazzurro. Piccolo parapiglia in campo però placato dal direttore di gara. Nella ripresa i Francavilla partono con un piglio diverso, il 52esimo e i biancazzurri passano in vantaggio. Grande giocata corale con Patierno dalla sinistra che calcia in porta trovando l'opposizione di pane sul tappin. Mastro Pietro segna il gol del vantaggio. Il quarto per lui in stagione. La Virtus Francavilla continua ad attaccare nonostante il vantaggio e si vede nuovamente pericolosa al 64esimo con una conclusione di Maiorino che pane però è bravo a neutralizzare in due tempi. Nel finale Taurino vuole mettere forze fresche in campo e ne cambia tre in un colpo solo inserendo Cecio, Tulissi, Ventola per Mastro Pietro, Patiano e Maiorino. Nella ripresa il primo guizzo degli ospiti arriva al 73esimo con Canutè che all'interno di rigore ci prova con un diagonale alla posizione defilata. Anche però termina sull'esterno della rete a 15. Dalla fine Lavellino resta anche in 10 uomini. Entra taccia di Matera a gamba tesa su Franco. Rosso diretto per il calciatore dell'Avellino che chiude con un uomo in meno. Inutili le offensive degli ospiti. Francavilla vince 1-0 grazie a gol di Mastro Pietro e vola al terzo posto in classifica.